turismo bilancio di fine stagione rileva un calo del 20 per cento alluvione terremoto ancora zero soldi per i pubblici e privati vandaline centro imbrattato palazzo cermatori fiera di san nicola appuntamento esteso a quattro giorni sport e solidarietà allo smash il torneo di padel e opera Buona serata. Buona serata. Ad approcciare una valutazione in merito è il presidente di Federalberghi Fabrizio Oliva. Il bilancio stagionale dobbiamo farlo sotto due punti di vista, quello economico e quello delle presenze. Per quello che riguarda il bilancio delle presenze confermo ovviamente per la media, per la generalità degli alberghi. Ovviamente nella generalità ci sta anche che qualcuno ha fatto presenze pari all'anno scorso o di più e qualcuno ne ha fatto di meno. Però direi che praticamente non possiamo scostarci da una valutazione che va da una perdita di presenze intorno al 20%. Adesso aspetteremo anche i dati statistici della regione ma più o meno a questo orientamento. Ma l'altro dato preoccupante è che chi non ha fatto praticamente un adeguamento prezzi adeguato, quindi faccio la ripetizione per rimarcare il concetto, oggi siamo al 6 di settembre, arrivano le fatture d'agosto che è il mese più pesante, l'aumento dei prezzi soprattutto elementari è stato notevole e quindi al di là delle presenze c'è anche un problema di un aspetto economico che è fondamentale per la vita di un'azienda e quindi credo che molti alberghi quest'anno si troveranno in difficoltà sia per il caso delle presenze sia per l'aumento dei prezzi. Anche oggi su tutti i giornali ci sono articoli sul turismo e soprattutto sul concetto di come si va avanti da agosto in poi. Per portare la gente nel periodo diciamo fuori settembre, quindi ottobre, novembre, dicembre, bisogna fare gli eventi. L'esempio classico sono le iniziative che fanno le Proloco a novembre e dicembre che in presenza di eventi abbiamo presenze turistiche. Nell'inverno, il mese, il fine novembre e dicembre sono diventati i mesi più profiqui per gli alberghi annuali perché in quel periodo ci sono aperti solo gli alberghi annuali. In assenza di eventi le frasi fatte non servono a nulla, quindi anche i politici, anche qualche collega albergatura basta con questi annuncismi. Bisogna che ci sia sinergia tra ente pubblico che investe e si confronti con la categoria su eventi da inventare a questo punto. Pesaro, capitale italiano della cultura, con che sguardo vi orientate a quel momento? C'è ottimismo oppure pessimismo? Rispetto a Pesaro 2024 c'è ottimismo, però anche qui c'è una questione molto importante che il Comune si deve sbrigare a emettere praticamente il programma. Dico a emettere perché oggi siamo anche qui, parliamo molto, facciamo stasera il Festival della Pesta, cerchiamo di creare delle coreografie, ma in sostanza ancora non c'è nulla. Ora c'è un impegno del Comune che prima del TTG, che è la fiera più importante del turismo a Rimini, e il Comune in teoria dovrebbe presentarci il programma degli eventi, perché io oltre all'albergatore sono anche turo peretti. Io non so se al 20 di dicembre o il 10 di gennaio l'iniziativa è sul Comune di Cagli o sul Comune di Carpegna, visto che Pesaro 2024 non è solo un evento che si celebrerà su Pesaro ma su tutti i comuni della provincia. Quindi è necessario anche qui essere concreti, precisi e puntuali. Non possiamo fare come con tanti lavori pubblici, esempio il Palazzetto dello Sport, che ci diamo degli obiettivi e poi triplichiamo i tempi. Ed è passato quasi un anno da quelle 15 settembre 2022, quando alcune città del nord delle Marche, in particolar modo Cantiano e Senigaglia, si sono imbattute contro la devastazione dell'alluvione, subendo ingenti danni e piangendo ben 14 vittime. Due mesi più tardi le Marche sono state poi colpite dal terremoto che parallelamente ha provocato enormi danneggiamenti a strutture pubbliche e private. A distanza di quasi 12 mesi, parte delle risorse necessarie per il recupero sono state intercettate ma senza essere state ancora distribuite tra i comuni richiedenti. Ad approfondire questa lentezza procedurale è stato il consigliere regionale dell'EPD, Andrea Biancani. Sta per compiere un anno l'alluvione di settembre scorso che aveva stato Cantiano, Senigaglia e quella porzione di territorio marchigiano, poi ce n'è stata un'altra di calamità naturale, ci sono state le problematiche del sisma, diversi problemi ma ancora le risorse stentano ad arrivare. Si è lamentata l'Emilia Romagna recentemente in tal senso e nelle Marche la musica non è tanto diversa. Se noi teniamo conto che si è lamentata l'Emilia Romagna che ha avuto l'alluvione nel maggio del 2023, pensate quanto hanno diritto di lamentarsi tutti quei territori che hanno avuto l'alluvione nel settembre del 2022. Ricordo un'alluvione devastante che ha creato anche delle vittime, ma che purtroppo dopo gli annunci che sono stati fatti dello stanziamento di 400 milioni di euro, a tutt'oggi le risorse realmente arrivate in tasca ai cittadini, alle imprese, ma anche agli stessi comuni che hanno anticipato le risorse sono ben pochi. Proprio in questi giorni ho fatto una verifica, ho cercato di capire con il comune di Cantiano, in realtà per quanto riguarda Cantiano rispetto alle risorse che il comune ha anticipato per la messa in sicurezza attualmente gli è arrivato circa il 33% di quello che hanno speso, quindi vuol dire che il resto hanno fatto comunque dei mutui, sono fuori rispetto alla propria contabilità. Per quanto riguarda i privati e quindi i singoli cittadini, ma anche le imprese che hanno ricevuto danni, siamo a una percentuale che va dal 12 al 17%. Quindi a distanza di un anno, oltre all'annuncio di 400 milioni, la Regione Marche attualmente ha già 100 milioni nel conto corrente, ma non si riescono a distribuire queste risorse. Questo perché? Perché i comuni stanno denunciando ormai da mesi dicendo che è necessaria una cabina di legia, sia dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista tecnico e amministrativo, così come era stato fatto per il terremoto che era stata istituita, come dire, un ufficio della ricostruzione, a mio avviso era necessario mettere in piedi un ufficio per l'alluvione, perché parliamo di comuni piccoli che non hanno il personale, che non sono in grado di poter fare tutte quelle procedure o meglio, che richiedono tantissimo tempo. Per quanto riguarda invece l'evento sismico del novembre 2022, ancora non si sa niente, è stata annunciata, come dire, lo stato di emergenza, ma ancora non sono stati definiti nessun tipo di decreto, sono state stanziate, mi sembra, sui 4 milioni di euro, ma queste risorse sono rimaste lì dove erano, quindi ancora nei comuni, nei singoli privati, nelle imprese che hanno ricevuto danni, la gran parte riguarda il nord delle Marche, quindi la provincia di Pesior Urbino, hanno ricevuto un soldo. Rispetto all'ultima alluvione, cioè l'alluvione di maggio del 2023, che poi è quella che è riconducibile in parte a quella anche dell'Emilia Romagna, i privati, lo voglio sottolineare, i privati e le imprese, ancora non si sa neppure che tipo di rimborso, cioè per che cosa potranno avere il rimborso, sono molti cittadini e le imprese che mi contattano per capire quando arriveranno questi rimborsi, ma ancora non si sa nulla. Per quanto riguarda invece le risorse messe a disposizione per il Comune, cioè per quelle spese che il Comune ha anticipato, ad esempio per il Comune di Pesior parliamo di circa di oltre 500 mila euro, ma i 240 mila euro che il Comune aveva segnalato, ad esempio per il ripristino della strada di Firenzuola, cioè la strada che collega Firenzuola, l'abitato, con il mare, la protezione civile addirittura ha detto che questa non è una strada strategica. Io penso che veramente manca una regia, anche politica o non so di che tipo, perché pensare di andare a dire, una volta che il Comune ti fa una segnalazione, ti presenta dei conti, ti dice che quella è una strada che loro vogliono sistemare, tu gli vai a dire che non è strategica. È una zona che ha ricevuto un incendio qualche anno fa, l'unica strada che consente di collegare il Paese, quindi con la spiaggia, ma consente soprattutto di poter andare con i mezzi di soccorso, ad esempio i vigili del fuoco, lungo la Falesia e solo quella strada lì. Non considerare la strategica per l'emergenza, ad esempio in un caso di incendio, dal mio punto di vista è veramente incomprensibile. Dall'altra parte non è solo i vigili del fuoco, se pensate al 118, cioè la Croce Rossa, se dovesse andare a fare un intervento in spiaggia, oggi non riesce a andare perché non ci sono i guardraite, perché durante i movimenti frenosi sono stati appunto i guardraite portati via e anche la stessa strada è a rischio. E passiamo ora alla cronaca con i fatti che hanno riguardato Palazzo Cermatori. Nella notte tra lunedì e martedì infatti un gruppo di vandili ha imbrattato con scritte indecifrabili una delle fazzate delle condominio situato tra Viale 11 Febbraio, Piazzale Garibaldi e Via Bramante. I Wreiter si sarebbero mossi su dei ponteggi delle cantiere passando sopra le tegole dei tetti della casa disabitata a fianco. Una serie di mosse pericolose viste le insidie che possono presentare le impalcature montate ormai da due anni per svolgere un'attenta ristrutturazione e tinteggiatura delle pareti esterne. Tinteggiatura che ora dovrà essere ripresa per cancellare le scritte disegnate. E in questa tarda mattinata, attorno alle ore 12, i vigili delle fuoco sono intervenuti a Schieti, Frazzine di Urbino, per redomare un incendio provocato da un incidente stradale. Episodio che ha visto coinvolta solamente una vettura finita per urtare contro un polo della pubblica illuminazione restando capovolto su un fianco. Il conducente dell'auto è riuscito ad evadere dall'abitacolo prima che divampassero le fiamme. Oltre ai vigili delle fuoco che hanno spento l'incendio e messi in sicurezza la zona, sono intervenuti la polizia locale e il 118. E sarà una versione extra large l'edizione 2023 della Fiera di San Nicola. Per quest'anno infatti la storica manifestazione cittadina sarà spalmata su quattro giorni, a cominciare da questo sabato, il 9 di settembre, e fino alle 12. È un evento sicuramente che porta economia, ma altrettanto è anche un evento che crea aggregazione, cioè anche le persone si incontrano per la strada. È un evento che dobbiamo assolutamente spingere, anche il prossimo anno sarà anche col fatto che Pesaro sarà capitale della cultura, faremo in modo di cercare di renderlo ancora più bello. Quest'anno ci sarà lo spettacolo, come sapete è stata inaugurata qualche mese fa Piazza d'Annunzio, quindi quell'area diventerà anche area spettacolo di intrattenimento per le persone che vengono alla fiera. Ringrazio per la collaborazione tutte le associazioni di categoria, per il lavoro che abbiamo fatto insieme, Pesaro Parcheggi, che è quello che organizza il tutto. Ci vediamo sabato, tutti in fiera, mi raccomando, perché dobbiamo aiutare anche gli ambulanti che sono a disposizione e sono lì per vendere tutti i loro prodotti. Gli ambulanti sì, hanno superato quota 550, quindi ha conferma che la fiera è fortemente voluta e apprezzata anche dagli espositori, non solo dalla città di Pesaro. Il giorno in più ne agevola chiaramente la partecipazione. L'area occupata dalla fiera di San Nicola partirà indicativamente da via Mascagni fino a via Fiume e i viali Trieste e Trento. Sono oltre tre chilometri di percorso fiera, quindi ce n'è per tutti i gusti. Pesaro Parcheggi non può tralasciare il tema parcheggi, naturalmente. La fiera ovviamente congestiona tutta l'area mare, sia per i residenti ma anche per i visitatori, quindi ci siamo mossi da un lato per i residenti, cercando di agevolare la sosta e quindi i titolari di permesso D2, D1 e zona E, che detto così sembra complicato, ma i residenti chiaramente sanno di cosa stiamo parlando, potranno parcheggiare in tutta la zona mare senza dover pagare, quindi sugli stalli blu. Mentre per i visitatori abbiamo attivato il servizio bus navetta, quest'anno sarà raddoppiato dal parcheggio San Decenzio, dal parcheggio Cimitero, quindi oltre 600 posti auto gratuiti, collegati in fiera da una navetta in funzione sabato e domenica dal mattino fino alla sera e lunedì martedì il pomeriggio dalle 16 alle 23. La fiera innanzitutto funziona perché ci sono i commercianti che vendono, i bambini devono stare lì e liberarsi di un po' di giochi che hanno a casa e giocare a fare i commercianti, è bello così e funziona così, magari evitare che i grandi vanno lì a vendere le scarpe e i vestiti che hanno nell'armadio, possono usare altri strumenti che ci sono sui social, sul mercato in rete per vendere quello che hanno in casa, debbono lasciar far sì che la fiera sia un modo per spendere qualcosa per i genitori in giro nelle bancarelle e un momento ludico di divertimento per i più piccoli. La particolarità della fiera di San Nicola, come sappiamo, nasce con il discorso della vendita delle cipolle, però poi dopo negli anni si è sempre di più provato e portato prodotti alternative, tutte le fiere di tutta Italia, però è una delle fiere più grandi d'Italia che abbiamo, quindi dobbiamo andarne fieri e dobbiamo cercare di valorizzare e aiutare anche chi fa sì, che ho notato ad esempio anche sui social che già gli albergatori da qualche mese stavano pubblicizzando la fiera di San Nicola, quindi questo crea un indotto importantissimo per la nostra città. E da ben sei giorni ci siamo affacciati a settembre, mese che annualmente coincide con la fine dell'estate e l'inizio dell'anno scolastico. Dalle 16 ottobre parte invece la nuova offerta didattica ed educativa delle Centro Studi di Pesaro, che introduce la novità di una collaborazione con alcuni corsi universitari. Il 13 settembre inizia l'anno scolastico 2023-2024 nelle Marche, in particolar modo nella provincia di Pesaro Urbino, il 16 ottobre invece inizia l'offerta proposta da Centro Studi Pesaro. Il Centro Studi Pesaro è un centro di preparazione scolastica, abbiamo diverse possibilità di didattica. La mattina facciamo didattica in piccoli gruppi per studenti di età scolastica, quindi della secondaria di primo e secondo grado. Il pomeriggio invece ci dedichiamo agli studenti lavoratori di diversa età che hanno bisogno magari di lezioni individualizzate e in orari ben precisi. Oltre alla possibilità di lezioni frontali abbiamo anche le lezioni online, quindi in diretta su diverse piattaforme informatiche, altrimenti la sincrono perché ci sono magari gli studenti lavoratori che hanno bisogno di seguire le lezioni in momenti precisi e quindi noi le prepariamo e poi loro se le gestiscono. Questo ci dà la possibilità di preparare al meglio i ragazzi ma soprattutto di innanzitutto recuperare in loro la fiducia dal punto di vista della loro prestazione scolastica e poi di recuperare appunto le loro lacune. Oltre a questi servizi di didattica abbiamo anche le ripetizioni, ovviamente al centro studi siamo tutti insegnanti laureati che hanno avuto magari anche esperienze nella scuola pubblica, quindi sappiamo bene quello che ci può essere richiesto poi dagli studenti e possiamo quindi preparare per tutto l'anno un pacchetto di ripetizioni su determinati argomenti in tutte le materie. Novità per l'anno scolastico 2023-2024 è la collaborazione con alcune università online. Quest'anno il centro studi comincia non solo l'anno scolastico ma anche il suo primo anno accademico. Collaboreremo con alcune università online che ci permettono sia di proporre tutti i classici corsi appunto universitari e soprattutto per chi ha più di 21 anni la possibilità di fare una triennale in 20 mesi e una magistrale in 18 mesi. Questo vuol dire che in poco più di un anno e mezzo è possibile ottenere appunto la laurea triennale soprattutto magari per chi ne ha bisogno per la propria carriera lavorativa o per poter magari essere, cioè andare in un grado superiore proprio all'interno del suo lavoro. Oltre a questo possiamo inoltre offrire come possibilità anche il master per completare la propria classe di concorso per i docenti e fare tutti i vari corsi che permettono di avere più punti nella propria carriera da docente, nelle graduatorie. In più c'è la possibilità di fare le certificazioni linguistiche ed informatiche. Come si sviluppano le vostre lezioni che tenete con gli studenti che avete? Le lezioni che noi teniamo durano 45 minuti perché abbiamo visto che la soglia di attenzione dei ragazzi è abbastanza limitata. Quindi l'idea è quella di aumentare e mantenere concentrato il più possibile il ragazzo. In che modo lo facciamo? Lo facciamo in diverse forme soprattutto con l'utilizzo di mappe concettuali e schemi. Questo perché sicuramente aiuta il ragazzo durante il ripasso, durante la lezione stessa e eventualmente anche per lo studio. L'obiettivo che abbiamo è quello di facilitare lo studio dei ragazzi. Quindi il nostro orario scolastico nelle lezioni viene modificato proprio per consolidare e recuperare alcune lacune che hanno i ragazzi. Il nostro orario di inizio delle lezioni alla mattina è alle 9. Quindi questo soprattutto aiuta per quei ragazzi che vengono fuori da Pesaro, insieme al nostro certo studio a Pesaro e quindi abbiamo un'offerta affermativa per l'intera provincia, l'intera regione. È anche una lezione diversa ovviamente da una scuola pubblica, un rapporto anche un po' più intimo tra il docente e lo studente. Sì, i rapporti che si vengono a creare sono molto amichevoli. L'idea è di far sentire il ragazzo il meglio possibile, quindi a suo agio, anche sia con il tutor che con i compagni. Non abbiamo verifiche, non abbiamo interrogazioni, quindi il ragazzo si sente a suo agio, lo studente si sente sicuramente a suo agio durante la lezione e durante il convergimento. Ragazzi che si presentano qui con delle grosse lacune, quali sono quelle più evidenti? Abbiamo visto che negli ultimi anni, soprattutto a causa della didattica a distanza, della DAD, i ragazzi hanno scritto pochi temi e quindi diciamo in italiano ad esempio c'è poca abilità nello scrivere temi, scritto lungo, corretti e quindi qua cerchiamo anche di effettuare molti temi, soprattutto perché è la prima prova in qualsiasi esame di maturità e quindi già facciamo sì che i ragazzi possano scrivere al meglio i temi in preparazione all'esame. Per noi è fondamentale, prima della buona riuscita dell'esame, che il ragazzo venga qui contento. Se viene felice, magari si riscrive come ci capita tutti gli anni nel nostro centro studi, questo ci dimostra che abbiamo fatto un buon lavoro. Ci teniamo molto anche a mantenere comunque vivo un continuo rapporto con i genitori, in modo che per qualsiasi problema possano sempre fare riferimento a noi. Le iscrizioni sono aperte da luglio, noi stiamo svolgendo con i vari genitori alcuni colloqui per le iscrizioni e non si chiuderanno probabilmente fino al prossimo anno, fino a febbraio. Se volete avere maggiori informazioni ci trovate in via Montebello 4, siamo a una traversa di via 11 febbraio, quindi è raggiungibile sia con i mezzi pubblici, siamo vicinissimi a 5 minuti dalla stazione delle Corriere e dei Treni e anche ai vari parcheggi sia a San Decenzio che a Carducci e ci trovate negli uffici da lunedì a venerdì. Potete anche contattarci telefonicamente via mail o seguirci nei nostri canali social, sia Instagram che Facebook, Centro Studi Pesaro ci trovate. Ed è giunta la sua tredicesima edizione la Benelli Week che per quest'anno andrà in scena dall'11 al 17 di settembre. Un evento dedicato come sempre a tutti i motociclisti ed appassionati della casa delle Leoncino che come sempre richiama in città centinaia di persone provenienti da tutto il mondo. La manifestazione organizzata da Motoclub Pesaro Tonino Benelli e Registro Storico Benelli prevederà ogni giorno una serie di percorsi orientati alla scoperta della costa e dell'entroterra marchigiano. Ancora pochi giorni per iscriversi alle Premio Cambiamenti 2023. Indetto dalla CNA è dedicata alle start-up innovative, alle nuove imprese che si caratterizzeranno per il loro grado di inventiva. Il concorso nazionale riguarda le migliori imprese italiane nate dopo il primo gennaio del 2019 e che hanno saputo riscoprire le tradizioni promuovendo il proprio territorio. Alle contest potranno partecipare ovviamente anche le imprese della provincia di Pesaro Urbino che se interessate possono inoltrare la loro candidatura alle mail info.cna.pesaro.com E venerdì 8 settembre alle ore 18 nelle cortile di Palazzo Montani Antaldi per la serie Pesaro Storie viene proposta una conversazione con il professor Ermanno Orlando, autore di Medioevo Migratorio, le cui tematiche saranno approfondite nelle corso dell'incontro in programma. Il giorno successivo invece, sabato 9 settembre alle ore 18.30 presso la libreria Catalogo di Via Castelfidardo si terrà la presentazione del nuovo libro di Pier Giorgio Pardo, Un e Gusto Superiore. Dialogherà con l'autore Alberto Giardini con l'accompagnamento musicale di Ruben e Camilla Salachitarra. E concludiamo con una notizia sportiva perché sport e solidarietà si intrezzano nuovamente in occasione della terza edizione del torneo di Padel Iopra che andrà in scena nelle strutture della società sportiva Smash sabato 9 e domenica 10 settembre. Nelle strutture della società sportiva Smash avrà luce la terza edizione del torneo di Padel Iopra. Sabato 9 e domenica 10 settembre appuntamento dunque con sport e solidarietà nei confronti di una realtà che a Pesaro opera da oltre 30 anni garantendo assistenza ai malati di cancro e sostegno alle loro famiglie. Siamo felici che siamo sempre allineati con il Padel che ci dà tutti gli anni da tre anni è stato creato e tre anni lavora per noi, cioè collabora con noi anzi ci assiste perché abbiamo sempre più bisogno di fondi e quindi sono Michela Vitri e tutti i vari partecipanti sono felici di dare a loro Iopra che conoscono l'importanza di questa associazione. assistiamo malati terminali e abbiamo veramente costi incredibili in un'associazione che assiste i pazienti 24 ore al giorno con tre infermieri, quattro medici, anche la psicologa e abbiamo quindi la fisioterapia con il dottor Radi, quindi i fondi purtroppo anche se tutti sono generosi e siamo convenzionati però veramente ci occorre sempre tanto tanto aiuto. Quest'anno abbiamo deciso di fare un torneino a squadre in cui tutte le squadre saranno composte miste due uomini e due donne o tre uomini e tre donne, ognuno come vuole in modo tale che più gente c'è, più partite fa e più faranno scalpore queste cose ognuno farà la partita, il sabato ci saranno le fasi a gironi poi dopo la domenica mattina ci saranno le finali con tutte le squadre che disputeranno la finale per arrivare lì, però la cosa importante è che sabato, domenica avremo anche un campo dove ci saranno tutti i giochi goliardici, giochi a tema, padel per fare il morido tale di accattivarsi un sacco di persone che vengono a vedere anche questa cosa non solo il gioco del padel per prendere più bacino di utenza possibile. E con quest'ultimo servizio termina qua questa nostra nuova edizione di Rossini News Prima però di lasciarvi le previsioni delle meteo vi ricordo gli appuntamenti per questa sera a cominciare dalle ore 21.20 dove andrà in onda la ripresa integrale delle Forlani Day questo consiglio comunale di Pesaro che è stato dedicato in memoria di Arnardo Forlani che è andato in scena nelle pomeriggio di lunedì e che questa sera noi vi riproponiamo in maniera integrale poi ci saranno anche le repliche sabato alle ore 16.15 e domenica alle ore 14.30 Vi ricordo anche il consueto appuntamento domani mattina in diretta alle ore 7.20 con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini in diretta anche sulla nostra pagina Facebook e poi le repliche che vedete in grafica 8.20, 12.20, 14.20 e 18.20 Ed ora è davvero tutto, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata 8.20, 14.20, 14.20, 14.20, 15.20